Settimana 4 Sottosigine di ventripoli Non mi concentrò sulla sfortuna Allora siamo contro Marwak Siamo Grofile Blasper Dai Dai facciamo Spark Tanto siamo morti Non ci ha fatto un cazzo E noi abbiamo fatto un cazzo a lui Posso burnarlo? Allora dai non mi fate Sono Sono morto Senti io provo così eh Dai direi si di fare karate Quanto ci ammazza prima lui Peccato Almeno fa i buchi Ma insomma avete visto anche prima col 2x Con così tanto special attack Quanto ha fatto Sicuramente Dalla sua Dalla sua E infatti Crittato pure capirai Preghiamo dai Senti Io fin dove posso Faccio Blaze Non me ne frega niente Thunderbolt Da Magnetric Thunderbolt Da Magnetric Era questo Magical Porco Dio Ho pure crittato Sì capirai Mamma mia Si parte male eh ragazzi Si parte molto molto male I jump kick I jump kick Sigh beam Difesa speciale di Cristo Lo proviamo mad ma tanto siamo morti Dizzy punch I jump kick Sta Vai Va bene va bene va bene E boh Ghigliottina Vai All'hub Pronti Si inizia con le one hit che io ho prese Dunque 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 Direi Sacred qua Direi Sacred Tutta la vita Spammiamo i 5 pp di Sacred Non vedo perché dovrei fare Ice Beam Sinceramente C'ha 5 danni in più E c'ha un 50% rispetto a 11% Di bruciare il coso Mio padre fra Mi ha crittato pure Mio padre Mio padre Si rinizia Si rinizia fra Si rinizia Ma come si fa Ma come si fa Circo funziona All'hub Mazza Magical Leaf Stub Spore e Icy Wind Idropompa con Draught Però è giusto Siamo Che scemotto Siamo contro Tangela Che chiaramente resiste Alle nostre mosse Ma secondo Polino Non ti dovi concentrare Sul sfiga Che hai Va bene Va bene Va bene Andiamo avanti Andiamo Allora Era piuttosto muoio Dai ragazzi Si va bene Non è morto Con Brick Break Questo mi ammazza C'è una 300 diobo No Rifai Sky Attack Rifai Sky Attack Sono tentato di prendere Bayleef all'8 Senti Già capito qua Come va a finire Dai bro Dai così Zap Ken Vai A casa Basta Non vi do più Non vi seguo più Non vi seguo più Cioè non seguo più i consigli L'ultimi tre consigli che avete dato Sono finiti tutti malissimo Basta Non vi chiedo più niente Gioco come so giocare Vaffanculo a tutti Questo Pupitar Non mi pare Cioè non credo si possa Si possa portare da nessuna parte Aio 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 Perché il Geridos che trovo Al 9 Fra interessante Al 9 Si prova bro Vabbè dai Zio Era perfetto Rapida Sciallotto Sweet Kiss Vabbè dai Io direi di spammare Solar Beam Cioè mi sembra Mi sembra l'unica Splash Attenzione Ok Aurora Beam Grazie per la sub Stella 4 per 4 Poi sono tutti bravi Eh abbiamo cantato Mi ha fatto pure Mi ha fatto pure horn drill Per il me Proprio per Per ripicca Per ripicca Ha pure Hittato il Il 30 Il 30% Di horn drill Così per Per divertirsi Siamo già a 3 One hit che io ho prese In 22 run Beh possiamo battere Il record di 6 Di settimana scorsa Oh No È successo tutto prima Non Si sa perché Sono scappato a 20 Blastoise A livello 5 E adesso Failo due volte di fila Non capisco cosa Si è successo Sinceramente Bene Shadow ball Le pregriamo Trash Ho pure fatto Love Si vabbè Caruccio 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 Faccio un riposo Il tale Erich Song Ho capito Ah Mi ha ammazzato Prima di Mi ha ammazzato Prima di farmi Perish Song Mio padre Proprio Che merda Eh io faccio Comunque flail Belli dramma Continuo Cioè veramente Sembra che Stia giocando Contro Matteo Pardini VGC All'Hub Porco Dio Ma non poteva Fa prima Rock Slide E lo shottavo Ha dovuto Fa Bellidram Pomparsi L'attacco Di un miliardo E poi ammazzarmi Cioè incredibile Sta roba Arrivederci E grazie Allora Dobbiamo pregare Che il primo Pokémon Che il primo Pokémon Sia una merda Io me la faccio Regale Curs Ha senso Ha senso rifarlo Ok adesso però Possiamo Ammazzarlo Perché Mi spaventa Un po' Il suo boost Porygon Dobbiamo Rolla Lightwave Prendendo l'anno Fra due turni Vero Quindi Un turno Sempre le mosse Incredibili Dai no Magnitudo 5 Allora c'ha Low kick Io me lo rollo Un'altra magnitudo Dai bro Oh che cazzo Eh certo Sai che Secondo me Più forte Hitwave Tanto non Hittiamo Secondo me La buttiamo Via la pozione Però Riprovo Mega Horn Regale Endure Certo Vattene a fare In culo Figlio di troia Esplodi E raga Secondo me Qua usiamo Full restore Qua usiamo Full restore Qua usiamo Full restore Vabbè Secondo me Un po' Una puttanata Però Ragazzi Fra Levitate E mi ha fatto Voltei Col 4x Dai ma di che Stiamo a parlare Dai per favore Bro Ma che sto a vedere Allora questo Minchia Mio padre Però Il nuovo di velocità Mi sa che non usciamo Dall'ub Regà Groul Trash Dai bro Non ci posso crede Non sono stato a correre Raga Perché c'ho 8 di velocità Non Sinceramente Non Non me l'accollo Ma è possibile Ma è possibile che tu lo fallisca Magari Megahorn No eh 3 su 3 Va bene Grazie La devo provare Per forza Ok Minchia Delle belle difesotte Ehi ragazzo Ah Aspettato proprio L'ultimo Per Per farmi Per trollermi Un pochettino Facciamo Ice B Memoriamo Regà Penso Si è pure pompato La difesa Quindi Però Non penso che riusciremo Infatti a uscire Da questo là Golbat Golbat Confusion Non mi stupirei Eccolo qua Grazie per avermelo Dato Per avermelo detto God Per avermelo tirato Primo pokemon Foglierà ma brutto colpo Razor Leaf Prima mossa The God Forsaken Due punti Primo pokemon Foglierama Brutto colpo Prima mossa di Golbat Razor Leaf Pronti Piccolo resettino Pagelli di Poli Dandio effettivamente Questa settimana Ha avuto un po' figa Però secondo me Dovrebbe concentrarci Più Sulle run Piuttosto che Sulle sfortune Vaffanculo Ido Club Tento campionato di merda Esplodessero tutti i pokemon Di merda Il budello di Mimaco La troia Madonna Anche lei Insieme a Mimaco E no tilt Kurz Ma che gli faccio io Le seghe gli faccio Faccio Tornado Twist Io farei uproar E preghiamo Thunder Punch Ragazzi C'ho 8 di special attack Ehi Stella Grazie per la sub Oh oh Hypnosis Hitta subito Vero? Ok Alla hypnosis Match punch è prioritaria Però se la faccio Lui poi mi attacca Quindi devo fare hypnosis Into Thunder Punch Probabilmente E su Into match punch Beh è durato tanto Il sonno Eh No Vabbè Vabbè Babbè Curo Bodieslam Ancora peggio Weatherball Vai Due stab Un 2 per rittato Primo pokemon Che ha più di 37 velocità A livello di 18 siamo un trobanette siamo dratini bone ipnosi vai ecco Matteo Pardini VGC sono morto credo che convenga vabbè li proviamo tutti e due partiamo con stomp ingrain 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 sbem sbem ci pensate che in 343 anni non abbiamo fatto nessuna fatica ah mio padre Caterpie sono contento quando arriva sempre una gioia perché Caterpie segna il punto di svolta direi di fare boh vedete il pick preghiamo Gesù si ci ha lasciato proprio nella condizione peggiore ammette eh vabbè rivederla è stato un piacere Sleep Powder lo attacchiamo con Shadow proviamo Conversion ok ha lasciato eeeh psichico abbiamo ammassato la sta terremoto stab crobat vedi vi fa incazzare sta roba che stiamo trovando dei pokemon assurdi assurdi non ne va bene me il nulla totale bro ci ha aumentato l'attacco siamo colpiti da soli meteor mesh morti se facciamo super fang into cross sai che forse conviene rifare super fang proviamo secondo me era meglio rifare infatti infatti proviamo cross magari c'è poca difesa niente vai 3 attack stab raishu proviamo blast raga cioè ha capito ragazzi è pure sta settimana io non ho parole bro cioè uno ci prova a non tiltare ma come fai ma come fai guarda qua guarda qua 3 doom in tube saving intanto se moriamo se ci ammazza ci ammazza in due turni 3 secondo me pure abbassato la difesa capirai saremo comunque morti lovely kiss carate shop facciamo un super power speriamo non si svegli dopo un turno forse conviene fare ancora super power no forse miss ball riprovo super power sono morto comunque nice punch morti morti la senstri vai allettato possibile più uscire o tipo 8 9 run di fila che non usciamo diciamo tantissime cure ehi capirai si vabbè dai king dragon intimidate che resiste all'unica mossa special che abbiamo vabbè dai raga va bene così va bene così la spregio proprio ce l'ha fatta celebri chiaramente non ho più pp per silver wind boh riprova fuck counter raga morto problema allora magari con ipnosi si parte mega kick ok è più veloci di noi ha più 17 di velocità bro c'è fra si è svegliato dopo un turno ancora bro stanno snappando tutti fuori al turno 1 dai spamma l'attacco water gun con un hp è rimasto beh credo che possiamo morire no possiamo morire in pace rollo uno psi però si è risvegliato un'altra volta dopo un turno fra non ha senso dai non ha senso sia speciale che fisico quell'absol secondo me la suonante è veloce questo sicuramente 6 6 7 escape di fila falliti va bene così preghiamo signori preghiamo electrabuds perish song vabbè almeno si finisce si finisce tranquillità no senza senso primo pokemon prima mosso primo pokemon all'otto regà si prende cioè si prova a prendere che faccio vabbè ci riprovo regà e niente andate una marea dai un leggendario bro lo croco in una tone di merda esplodi e niente e niente pure bike aveva vabbè possiamo far questo ice beam paralizzato boh primo berge ma tanto non credo che riusciremo infatti a sopravvivere vabbè facciamo slam e preghiamo mega kick ci sta senti qua secondo me ho o mudshot a spam o luster purge io provo inizio con mud certo che 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 foolish a pensare a ragionarci anche su ste robe boh faccio skin swap lo so leech seed vabbè sono morto ok ok ragazzi dunque proviamola di fireblast e preghiamo outrage l'abbiamo bruciato attenzione non abbiamo cure io direi di continuare con fireblast niente proviamo siamo più veloci a me il nostro obiettivo è non farci sopraire da data so che sembra difficile ora come ora ma stiamo puntando addirittura a quello scusate se punto così in alto scusate se punto così in alto magari il buon Diego non fa otto fatiche questa settimana e riesce a non superarci veramente io prego ogni stavolta sono stato sveglio 4 ore per fare una preghiera a un dio dei sumeri per per far si che non accada vabbè raga qua moriamo cioè non devo rollare il dynamic punch se no non lo ammazzo mai questo protect protect sonic boom e slash stab si 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 devo fake out lo so raga e che nei pokemon che so di shottare non lo faccio e poi funziona solo al primo turno non glielo voglio fare un altro gli faccio bone raga tanto è burnato drago rage siamo il terzo e preghiamo gesù io ragazzi spammo orn attack perché almeno non non fail è solo per quello cioè c'ho più vado più safe vediamo quanto li togliamo counter un hp counterato dai anche questa settimana beccato pure questa settimana si vola farei body slam stab abbiamo fatto un cazzo water spout se la rifà però niente ci ha ammazzato porco dio c'è un motto di special defense ora però non mi fa iniziare tipo contro entei powdered comunque insomma io provo sempre dragon claw finché ho pp io faccio dragon claw petal dance ok non mi ha fatto molto ratiquette io vado sempre di dragon e mi ha fatto dragon rage seconda volta che troviamo dragon rage in 5 run si passa al prossimo io non so se ha senso fare il seed vado di boom e capirai arrivederci e grazie abbiamo 15 di velocità secondo me lui è più veloce di noi io farei sludge siamo più veloci di lui e rapture facciamo facciamo i jump tutta la vita da morti altra 150 in faccia possibile che i pokemon non abbiano una mossa con 150 di potenza ma che lecco ma che lecco lecco i cazzi lecco sono più veloci noi addirittura azor leaf figurati vai pure questo loud hunt incredibile ragazzi eh certo si vabbè ok bro vai break break oh morti morti mincada rapture mincada con speed boost sto tiltando veramente sto tiltando e mi sono rotto i coglioni ogni singola ogni singola settimana è sempre peggio è sempre peggio bro cioè non non finisce mai la sfiga cioè ci siamo ribeccati di destiny bound perish song due counter un revenge porco dio mi sono rotto i coglioni veramente mi sono proprio rotto i coglioni cioè guarda qui guarda qui guarda qui questa redattile che statistiche ha non è possibile non è possibile che qua si sfighi così tanto in altre parti c'è solo culo è impossibile bro veramente non ci credo è proprio matematicamente e statisticamente impossibile cioè che faccio qua questo è il danno che gli facciamo morti dynamic punch era confuso ha beccato la confusione e ha ruolato il 50-50 2x dynamic punch morto abbiamo idro e certo idro pop bordo un'altra 2x120 all'hub vai siamo a 12 di fila non male l'attacco di sto coso a livello 3 bro è a livello 3 è a livello 3 qualsiasi cosa facciamo è sempre la scelta sbagliata qualsiasi cosa fai qualsiasi non 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 c'è possibilità bella run sta settimana invece le prima guardate bene vai si che il power stab da sui con e si va tutti a nanna flash close stab grazie a tutti non c'è non non c'ho più voglia mi ritiro mando un messaggio sul gruppo e gli dico basta basta mi ritiro non c'ho poco più voglia bro sono sincero basta basta vedi che piangere funziona lancia fiamme con 9 di special attack ma godatissimo cosa ho fatto 2 HP in un livello dimmi questo lanthorn per resistere a un jump kick jump kick con potenza 70 e e attacco 38 quanta difesa sludge bomb slip talk ecco qua le mosse che impariamo noi slip talk berrai quasi a contro morti vai c'è settimana scorsa polli ha fatto le pagiare ci ha dato 3 e mezzo di fortuna ci darà 0 questa settimana basta ci siamo presi un altro perish song un altro destiny bound due counter un revenge porco dio due dragon dragon cosa che tolgono 40 HP da brock tutti ci siamo presi basta lo gioco più a poco mi ritiro mando un messaggio su gruppo e finisco qua ciao